Ok, da qua portiamo le braccia dietro, ombelico nella schiena, inspiro, saliamo, dan leggermente indietro con gli schi, sposto i glutei indietro, inspiro, stacco i piedi in crocio e espiro, dentro, laterali, es, in, es, in, es, in, es, in, es, in. Vai bene dietro, es, in, es, in, es, in, es, in, es, in, spiro, inspiro, un minuto di questi, es, spiro, inspiro, inspiro e spiro, in, es, in, es. Grazie.